Bene ragazzi, siamo su Kena Bridge of Spirits E niente, adenturiamoci in questa avventura insieme ragazzi Io lo faccio in modalità storia perché voglio godermi la storia Allora Appena visibile, dovrebbe essere così ma non ne teniamolo così, è sempre a metà Vediamo com'è questo gioco Ovviamente in polvere per simboleggiare il pacifico viaggio dello spirito verso la vita successiva Non tutti gli spiriti possano percorrere questo sentiero da soli, lottando con le tragedie del loro passato Alcuni indugiano diventando pericolosi I maestri chiamati ad aiutare questi vencenti tra l'altro ovviamente sono conosciuti come guide spirituali Ok Bello raga Allora sentiamo com'è Allora, l'audio dovrei averlo messo a posto in modo che mi sentite in caso Scusate se mi sentite poco Allora, abbassiamo leggermente Allora, ok Ok, devo seguire loro Ok Ah, questo fa Ah, ok Questo fa accendere le Questa cos'è? Ok Vabbè salto Ok, questo schiva Come faccio ad andare là? Ma posso andare nell'acqua? Ok Vediamo se qua accende qualcosa Bello E qua devo fare questo? No Cosa devo fare qua? Ah No, come ho fatto? Come ho fatto? Con su, ok Devo fare qualcosa qua forse No Ah, ok Non saprei cosa devo fare raga Qua è chiusa Forse devo stare qua? Ah, ok Dovevo colpire quello Ok, ok Ora lo so Qua posso andare? Sì Filmato Oh madonna Era uno per l'attacco leggero Era due per l'attacco pesante Ok Ok E questo mi ripara? Vediamo Sì, ok 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 No, dovevo schivare Ok Bello raga Ora cosa devo fare? No, qua non devo fare niente Qua devo eliminare? Ok Ok Ok, devo eliminare questi Ok Si è illuminato quello Devo andare là adesso Ok Ok, ok, ok 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 Bello Bellissimo Forse una musica Ok Ok, la musica è altissima Ve la basso leggermente E audio Musica Metà Ok Bello, bello, bello Ok 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 Madonna Posso attivare questi Posso attivare questi Sì Una volpe E questi cosa devo fare? Ah Interagisci Filmato Filmato Oh E fra Come Hi Ah Ok Per entrare con i root Ok Ah raccoglie Hi Hello It's all right What happened here little guy? Hmm Ok Allora raga Io voglio vedere una roba Cerca altri root nella zona Ehm L'audio Non c'è in italiano vero? Già Comunque Fammi vedere un attimo Devo sentire un attimo No va bene va bene va benissimo La musica va benissimo Allora Ok 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 doppio salto l'avevo già visto Però Mi sa che vi metto l'audio De FX al massimo Perché L'audio della musica è comunque più alto Ok Ok Cosa devo fare? Ah ok Ah ok E lo raccoglie Ah root ho trovato Ok Ok L'audio della musica è veramente altissimo Comunque Fettiamo Ancora alto Madonna raga ma Ok Ok così va bene Allora dove devo andare? C'è una sto Ok 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 Poi si può anche combattere Raccogli E qua non si sente più Ok ho capito raga Beh la tengo A metà Ah perché se no non si sente C'è a volte si sente A volte no Qua non si può più andare da nessuna parte No? Cioè credo Ah ok Ok Qua cosa c'è? Tutto strano qua Cos'è questo? Altri root Per purificare questo cuore Ma questi si possono rompere? Madonna Altri root E dove li trovo altri root? Ah devo seguire loro Qua cosa c'è? Apri Ok Ok Me ne servono altri due Qua si può salire? Ah no Ok Ok Qua Vai Siamo a quattro Ok Me ne manca uno Dove può essere? Di qua? Qua non ci sono andato Ah me lo dicono loro Dov'è? Ok Danza In che senso danza? In piedi La tua squadra di compagnia è cresciuta Adesso hai una nuova azione root Poi mi guardo per mandare I riot sui oggetti nell'ambiente E quindi? Ora posso pu... Ma questi? Ah Ok Ora posso... Ripulire questo Sì? Usa Ah ok Ok Ah bisogna non capire Le meccaniche Salta Saltaggio Ok Ah Ok Quello Oh mamma Nemici Mi è dotato a una porra E si sono ascoltati Che i nemici Per aumentare il coraggio In combattimento Si prendono il coraggio Per eseguire azioni Ah ok Ok Adesso non posso Devo aspettare Quanti sono Aia Aia Ok Ah là ce n'è un altro Aspetta No ho sbagliato Bello 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 Ok Ok Qua Il gruppo Posso Stare Oggetto In ambiente Per far raccogliere Oggetto Ma Sono degli schiavi Ma va Ah In realtà Dovevo Metterlo La Ok Vediamo se riesco Ad attaccarmi Lo stesso Si ok Qua Posso romperlo Questo No Cos'è Usa Riot Cosa fa Ah lo rimettono a posto Ah ok Dovevo andare adesso Qua Qui E di là Ah Not bad Eh sbaglio sempre Ma questi possono attaccarli no? C'è un fiori malvagio qua Oh 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 Let me help you I can heal these spirits and restore balance to the forest I know you are kind You sense the power that flows through this land but You do not fully understand it Oh oh Death And corruption Are order remain here This land can be healed but you cannot stay here spirit You must move on You are the one who does not belong I will never Abandon I'm Oh 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 mamma Ai 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 Questo è bello grosso Germoglio Azzarola Tien minuto e uno per proteggerti Ok Non posso più proteggermi Oh vado Bello bello raga Mi piace You can come out It's safe now It's safe now Look Sia She cleared away the poison The little guys can eat it They love it My name is Keina What are you two doing out here alone in the forest Don't worry about us We've been here a long time to take care of ourselves I can see that You both look very strong Do you know who that spirit was with the horned mask? We don't know But when he shows up the gross poison grows stronger Hey what are you doing here in the forest? Comunque Il doppiaggio originale è bello Ti vuoi arrivare al santuario della montagna devi prima aiutarci Ok Il nostro brother Taro è intrappolato in profondo della foresta Abbiamo bisogno che lo aiuti Ottimo idea Sia Sarà facile per lei Ha visto cosa ha fatto qua Quel coso? Aiutaci il mio bro Taro Ti porteremo al santuario della montagna Ok Allora Quanti ne ho? Otto Ah mamma mia Poi si diventa più potenti immagino Va bene raga Io salvo E vi saluto Vediamo come reagite a questo gameplay A me piace un sacco comunque Veramente un sacco Vi saluto e ci vediamo a un prossimo gameplay su Kenya Kena Ciao ragazzi alla prossima